Inevitabile vittoria dell'Italia a Malta. La squadra azzurra non poteva non vincere. Con questa sono nove vittorie in nove partite. Mancini non si è esaltato per la prestazione e ha visto bene cosa si poteva fare di meglio. Quasi tutto ha commentato alla fine. Nota positiva. Reteghi due gol in due partite. A Malta bello stacco di testa. Troppo debole la squadra di Marcolini e il raddoppio di Pessina ha arrotondato un risultato mai in discussione. Mancini ne aveva cambiati otto rispetto alla partita di Napoli. In difesa bene Romagnoli e Donnarumma in una gara con pochi sussulti. A centrocampo Pessina buona prestazione e primo gol monzese in azzurro. Ha fatto bene pure cristante sostituto di Giorginho. Davanti a parte Reteghi soddisfacente politano. Nel girone la vittoria dell'Inghilterra sull'Ucraina tiene gli azzurri in corsa per gli europei. Prossimo impegno della nazionale in giugno contro la Spagna in National League. Per ora dobbiamo accontentarci così.